Domani la squadra ha un alto impegno molto difficile dopo quello di settimana scorsa, ma diciamola tutta, con la salvezza già raggiunta, sono partite che danno forse uno stimolo in più per questa finale di stagione? Questo è certo, anche perché, proprio perché si può giocare senza avere il patema d'animo del risultato, si va in campo, le ragazze vanno in campo e danno tutto senza aver paura, la palla non brucia più. A questo punto uno sa che la salvezza c'è e quindi non c'è niente da perdere, c'è solo la far figura, bella figura. Con Nottolini quest'anno sta facendo molto bene anche da un punto di vista di giovanili, domenica c'è un altro bel incontro dell'Andia 14. Sì, è anche importante perché siamo a Carrara alle 11, perché attualmente siamo secondi nel gironcino, se riusciamo a mantenere la stessa posizione poi ci aspetta la Final Four a Cecina. Quindi ci piacerebbe, dopo le esperienze dello scorso anno che l'Andia 14 vinse il regionale, ci piacerebbe essere anche quest'anno nelle prime quattro della regione.